Marocco-Croazia 0-0 Siamo al novantesimo, vi faccio questo post partita che non era inizialmente in programma per il semplice motivo che sono uscito prima a scuola e di conseguenza ho potuto vedermi la partita non sono riuscito a vedermi il primo tempo, però ho visto tutto il secondo tempo e da quello che ho letto diciamo che nel primo tempo e in generale anche nel secondo da quello che ho visto è stata una partita comunque molto equilibrata, il risultato è giusto secondo me è che entrambi le squadre hanno avuto occasioni diciamo, non occasioni occasionissime ma hanno avuto comunque un buon numero di occasioni da rete infatti vabbè il possesso è sicuramente a favore della Croazia 64-35 però i tiri 8-5, i due tiri importa due, quindi più o meno le occasioni sono simili il possesso vale in favore della nazionale anelata da Kovac però chiaramente questo punto se vincesse eventualmente così sicuramente è favorevole al Marocco più che per la Croazia cioè secondo me la Croazia oggi si portava tre punti a casa era una cosa incredibile non dico che aveva già chiuso la qualificazione però insomma era già molto più avanti rispetto al Marocco invece il Marocco con questo punto che è buono non lo considero un punto d'oro perché secondo me il Marocco ha una buonissima rosa e secondo me quasi si equivale a quella della Croazia no, equivale no però secondo me sono due rosa molto molto forti molta Serie A Sabiri come si chiama? Amrabat cioè tanti giocatori anche per la Croazia ex Perisic Pasalic Vlasic insomma c'è molto Serie A sicuramente in secondo tempo un colpo di testa di Masraoui che poi è uscito in Varella per infortunio e un tiro di Hakimi parato da Livacovic su punizione e anche un salvataggio clamoroso di Amrabat sul tiro di Perisic abbastanza ravvicinato cioè ragazzi ben ritrovati vi saluto solo adesso perché è l'unico momento che ho per farlo visto che prima volevo anticipare un attimo iscrizione, like e campanella condividete questo video con tutti i vostri amici se state sempre aggiornati sul mio canale per non perdere con contenuto che pubblico seguitemi su Instagram JohnGamer trattino basso sul sito vi ho JohnGamer e seguitemi anche su sul canale gaming JohnGamerGaming seguitemi anche sul canale calcio parola a questo JohnGamer Extra detto questo comunque è stata sicuramente una bella partita sicuramente su quello non c'è dubbio per quanto riguarda comunque secondo me hanno giocato ripeto tutte le due squadre forse per il Marocco mi aspettavo qualcosa in più da Ziyech però comunque ha fatto comunque una buona partita nel primo tempo per quanto riguarda invece la Croazia come vi ho già detto da un po' è una squadra che non mi sa né di carne né di peso è una squadra media cioè che può passare come no cioè non mi sorprenderei di una Croazia magari fuori ai gironi ecco intanto attenzione qua la Croazia che dialoga bene attenzione niente ok libera però il Marocco diciamo che è stata una partita anche molto spezzettata perché all'inizio aveva iniziato meglio il Marocco poi è venuta fuori la Croazia secondo tempo molto equilibrato diciamo che entro le squadre ci stanno provando ora ora maggiormente la Croazia che comunque ha messo comunque dentro Orsic dentro Maier sicuramente giocatori molto molto interessanti giovani e anche lo stesso Pasadic poi per il Marocco vedendo qua la Croazia prova a fare una bella giocata Amrabat che ha giocato una buona partita prende un pallone palla in verticale uno riesce a tenerla dentro vediamo un po' attenzione al Marocco che prova a ripartire vediamo un po' se ci riesce no perché la Croazia ferma la ripartenza attenzione al recupero un giocatore del Marocco che cade giù attenzione allora al Marocco che può andare con Esa Lui che cade e non fischia l'arbitro Esa Lui e anche Esasouli come si chiama è caduto anche in area di rigoli dopo aver tentato il dribbling contro due giocatori della Croazia mi sembra un elastico cade in area di rigoli ma il rigore chiaramente non c'è per quanto riguarda ripeto un punto che va a favorire secondo me più il Marocco però la Croazia secondo me complessamente non ha fatto una bruttissima partita mentre un po' fallo intanto un giocatore della Croazia manca ancora un minuto si aggiungerà credo qualcosina per falli eccetera eccetera sinceramente questo pareggio me lo aspettavo anche se una vittoria del Marocco secondo me era più pronosticabile in realtà più pronosticabile no forse il pareggio è stato più pronosticabile dalla gente oppure una vittoria magari dalla Croazia insomma era una partita da tripla al momento appunto si va per lo 0-0 però non c'è una partita che ormai pareggiano per esempio le due squadre un po' l'arbitro fischi alla fine no ancora no attenzione qua la Croazia palla in mezzo un giocatore del Marocco però bravo a liberare ed è Sabiri è finita Marocco 0 Croazia 0 su OneFootball avrete visto che è finita prima ma io la sto guardando anche dal replay comunque per il Marocco diciamo che anche i tifosi erano abbastanza contenti a questo punto cantavano e lavano uno stadio molto molto pieno sia da tifosi marocchini sia da tifosi comunque croati sicuramente il Marocco come potete ben vedere ha sicuramente dei giocatori molto molto interessanti come Bono Masrao che è appunto è uscito in barella addirittura per l'infortunio poi anche Hakimi Amrabat che ha fatto una bella partita Ziyech El Nesiri Cesumela Rosa del Marocco non dico se è più forte perché no sarebbe diso intellettuale dire che il Marocco è più forte della Croazia ma secondo me anche la Croazia ha una buona squadra però degli elementi che andrebbero sostituiti come Kramaric con tutto il rispetto ecco Modric che anche oggi ha giocato sicuramente una partita molto molto positiva sicuramente diciamo così che è stato preciso il tiri 25% il Marocco 40% della Croazia detto questo voi vi aspettavate questo pareggio fatemelo sapere qui sotto nei commenti noi ci vediamo con il post partita di aspettate che vado un attimo a controllare di Germania Giappone non farò Spagna Costa Rica perché non mi interessa e ci vedremo ancora dopo con il post partita e Belgio Canada per quanto riguarda domani invece Svizzera Cameron niente Uruguay Corea niente Portugal Lugano e Brasile sempre dovrebbero essere due partite che pubblicherò domani detto questo ragazzi questo video finisce qui spero vi sia piaciuto e nulla fatemi sapere un vostro parere qui sotto di questo match che tanto volevo vedere infatti mi sono pure divertito a vedere perché non sarà stato un match bellissimo però comunque un match equilibrato il risultato secondo me è giusto con le due squadre che comunque hanno avuto un buon numero di occasioni detto questo ragazzi questo video è ufficialmente finito e noi ci vediamo al prossimo video con il post partita di Germania Giappone grazie a tutti Grazie a tutti